a gentili spettatori buongiorno da Franco Pitaniello dallo stadio comunale Paolo Borsellino di Volla siamo per assistere all'incontro di calcio valevole per il recupero della diciassettesima giornata del campionato di eccellenza Girone A ad affrontarsi saranno l'Audac Cervinara e la Virtus Volla Virtus Campania Audac Cervinara recupero della diciassettesima giornata partiti in questo preciso istante salta due avversari entra in aria scodella al centro pallone messo in fallo laterale ancora blocca a terra il tiro di Visciano Rete passa la Virtus Campania al quattordicesimo su incertezza della difesa del Cervinara il Virtus Campania si porta in vantaggio battuta minuti di gioco 20 risultato 1 a 0 per la Virtus Campania Rete pareggia il Cervinara con De Marco Ristabilita la parità Cervinara che sigla il pari con De Marco Alessandro De Marco che in una mischia furiosa in aria riesce a superare Avino Fedrone che raggiunge il pallone salta l'avversario Riale scaraventa al centro esce Scolavino laterale l'albitro porta il fischietto alla bocca e manda tutti negli spoglioni ancora sbordone Lupoli pallone al centro Rete passa il Cervinara con Marco Vedrone azione rocambolesca alla fine si trova sul piede il pallone Petrone che lo scaravende in fondo al sacco per il vantaggio Cervinarese Cervinara 2 avversari ancora Lupoli si invola stacca di testa De Marco scivola Scolavino però blocca lo stesso il pallone Rete ancora 3 a 1 Cervinara Arciello chiude forse definitivamente la gara Cervinara 3 Virtus Campania 1 in gol Arciello due gare tre gol per Arciello con Avino lo supera entra in aria Arciello viene messo giù calcio di rigore ci si trova contro un ragazzino batte guadagni Rete Cervinara 4 Virtus Campania 1 dilaga il Cervinara Zerlenga Zerlenga Ventola Rete 4 a 2 segna Ventola batte Simone Cioffi guadagni Koken finisce così si va negli spogliatoi con il risultato finale che arride al Cervinara Cervinara che vince in casa del Virtus Campania con 4 gol contro i due della squadra della Virtus Campania del Virtus Campania s none s Grazie a tutti.